Come state? Ben ritrovati, buona giornata, buon proseguimento di giornata a seconda di quando vedete questo video, buonanotte, buongiorno, insomma ognuno vede quando meglio crede e dove meglio crede, non voglio sapere dove siete in questo momento, vi ricordo però in apertura di iscrivervi in questa zona sul logo di Milanello se lo avete ancora fatto, vi aspettiamo, le porte sono aperte, ovviamente è tutto gratuito, attivate anche la campanella, lasciate un bel like e commentate numerosi. Sono qui sul mio divano di casa in una fase zen di riflessione, abbiamo analizzato diversi aspetti nel corso di questa pausa che non è ancora finita, abbiamo analizzato ovviamente l'aspetto di campo e personalmente ho detto che soprattutto in gare come quella contro l'Udinese i giocatori sono indifendibili perché insomma non devono approcciare diversamente, poi qualcuno dice ma non è vero che approcci diversamente, secondo me è più complicato battere il Tottenham rispetto all'Udinese e se perdi con l'Udinese senza scendere in campo perché non sei sceso in campo, quindi i giocatori hanno le loro responsabilità, la guida tecnica, quest'anno insomma più volte forse ha sbagliato direzione, almeno dal mio punto di vista, poi leggerò il vostro qui sotto, io credo che questa squadra debba giocare con tre centrocampisti per avere più equilibrio, più solidità e magari anche migliorare a livello di proposta di gioco che quest'anno è venuto un po' meno. Come dicevo la migliore espressione del Milan di Pioli, il cosiddetto piolismo, era grande intensità, grande pressing offensivo, giocatori che non davano riferimenti, andavano tra le linee, si scambiavano le posizioni, si sovrapponevano, un Milan molto propositivo, una proposta di gioco davvero interessante che quest'anno si è vista raramente e le poche volte in cui il Milan ha giocato bene è perché aveva grande intensità, è una squadra che non si può permettere di avere un calo di intensità. Dopodiché però c'è un problema anche strutturale, nell'analisi, nel processo ci finisce ovviamente la proprietà che dovrebbe magari essere un po' più presente se vogliamo, poteva dare più risorse, però una cinquantina di milioni di euro circa, ma al contato, ci sono stati spesi e in Italia nessuno ha speso così tanto, no? Manca sempre la voce, il prayer trading, cioè io oltre a quanto mi dà, oltre al tesoretto che mi dà la società, la proprietà, investo altro che ricavo io da tagliare, alcune risorse, da fare insomma delle cessioni, delle plusvalenze. Ma in questo caso sono molto d'accordo con il tweet del mio direttore Fabio Ravezzani, che ha sintetizzato un tweet, adesso i tweet sono un po' più lunghi, però in generale ci vuole molta sintesi, lui dice che si possono fare tanti discorsi, dopodiché stringi stringi, ci sono tre punti. Tre punti fondamentali, ripeto, sono molto d'accordo. Il primo? Il primo è che il Milan ha clamorosamente sbagliato il vice Giroud. In estate serviva un vice Giroud. Giroud che quest'anno sta andando anche oltre le più rose aspettative, perché comunque i suoi golli ha fatti, anche pesanti, importanti, non pochi, però va verso i 37 anni, con di mezzo pure il mondiale. Fortunatamente Giroud è sempre stato bene, quindi lo abbiamo avuto, a difenza dello scorso anno quasi sempre. Però Giroud, per fortuna che lui ha fatto di più, altrimenti sarebbero stati problemi seri. Serviva un numero 9 alternativo che la nostra squadra mercato ha identificato in Orighi. E purtroppo è stato un errore, forse a livello anche, diciamo così, teorico e pratico, perché Orighi non è un numero 9. Il Milan di numero 9 ha fatto vedere davvero molto poco, se non l'ingaggio, 4 milioni e mezzo di euro, fortunatamente c'è il decreto crescita. Ha fatto vedere poco. È un giocatore che non lo vedi mai lì in area fermo, di riferimento, che cerca il cross, che vuole magari l'assist. Tant'è che il gol, ricordo quel gol col Monza, bellissimo, l'ha fatto da fuori, no? Non dà profondità. È uno che vaga un po', un po' a destra, un po' a sinistra. Centralmente, come termine l'offensivo, pochissimo. Quindi è stata sbagliata la scelta, oltre che perché lui è arrivato qui in infradito. Sembra che stia facendo una vacanza, l'abbiamo detto più volte. Pensate che nell'ultima gara lui ha toccato appena un pallone in 17 minuti, quella contro l'Udinese. Ce ne vuole per toccare un pallone in 17 minuti. Forse fossi sceso in campo anch'io ne avrei fatto uno, ne avrei toccato uno, magari due, non lo so. Primo punto, purtroppo clamorosamente sbagliato. In estate io pensavo che Orighi potesse, arrivando dalla Premier, fare molto meglio. E quindi questa cosa che se uno arriva dalla Premier in Serie A fa la differenza, purtroppo me la devo rimangiare e la cancello sul mio block notice. Secondo punto, identificare un numero 10 all'altezza, no? E qui il numero 10 è stato seguito, scelto. Si sapeva che aveva delle difficoltà di natura caratteriale perché è un profilo un po' timido, un po' introverso. Ve l'avevo raccontato addirittura due mesi prima dell'acquisto. Maldini era un po' perplesso, però poi aveva fatto degli approfondimenti ed era andato oltre. Purtroppo del chetelare 35 milioni, diciamo così, il 70% del budget è stato a oggi sbagliato. Poi Maldini dice ti aspettiamo sei mesi, un anno, un anno e mezzo. Però in questa stagione, magari dopo la sosta svolta, però è solo una speranza, purtroppo in questa stagione lui non era quello che ci aspettavamo. E lì abbiamo speso tante risorse, davvero tanto. Il numero 10 nel 4-2-3-1 è un ruolo molto importante, è determinante. Lui era partito anche bene, ricorderete, l'assistico Bologna, un po' di sfortuna, un paio di gol annullati. E lui poi è stato piatto, 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 piatto. E ha giocato comunque perché spesso è stato fatto entrare, qualche volta all'inizio, ma spesso è entrato. E poi però è entrato in un tunnel e anche la squadra che ha avuto difficoltà sicuramente non lo ha aiutato. Però, ecco, lui il 10 doveva fare da raccordo tra attacco e centrocampo, doveva essere colui che sviluppava il gioco dalla tre quarti in poi, doveva essere uno in grado di far segnare i compagni e anche di fare gol, di migliorare il fatturato realizzativo attraverso assist o facendolo lui in prima persona con dei gol. Sbagliato. Sbagliato, purtroppo. Speriamo che prima o poi l'investimento possa far vedere il proprio valore. Però abbiamo sbagliato. E questo era il secondo grado obiettivo dopo il numero 9. Numero 9, sbagliato. Numero 10, sbagliato. Avessimo anche azzeccato il numero 10 o il numero 9, sicuramente oggi la situazione sarebbe molto migliore. Con più gol, un'alternativa a Giroux, abbiamo difficoltà a segnare. Ultimamente segniamo al massimo due gol quando va bene, due volte nelle ultime 12 partite, altrimenti o 1-0, la situazione di classifica sarebbe migliore. Anche con il trequartista. Detto che ha giocato Obrahim, ha fatto il suo, ma non abbiamo bisogno di più, no? E poi c'è il terzo aspetto, che forse può essere il più importante. Nella sintesi, numero 9, abbiamo detto. Numero 10, e poi aver sottovalutato volutamente, oppure no, non aver sostituito volutamente, oppure no, un giocatore come Chessy. Chessy banca terribilmente. Chessy, seppur in una stagione non straordinaria, la scorsa comunque la sua pagnota la portava a casa. Era uno che qualche gol nei piedi ce l'aveva, era uno che comunque lo vedevi un po' ovunque in mezzo al campo, che faceva legna, che dava equilibrio, dava anche fisicità in mezzo al campo dove magari noi risentiamo un po'. Era un titolare del Milan. Era uno anche con personalità, uno dei più veterani di questo Milan, no? E il progetto era, non lo sostituisco, gioco con Ben Asser, con Tonali, e lì, dove comunque ha fatto anche lui qualche volta trequartista, ma alla fine giocava Krunic, ci metto un trequartista come De Ketelare. Così non ho neanche bisogno di sostituire Chessy. Un progetto molto ambizioso, offensivo. Nell'idea del Milan, il sostituto di Chessy doveva essere De Ketelare. Ma se hai fallito quello, hai fallito il 10, hai fallito anche il discorso di Chessy, che comunque era un perno, uno scoglio, un muro, era fisico, muscoli, inserimento, gol, e tendenzialmente lui, la squadra, la teneva su. E alla fine, sintetizzando molto, in un ipotetico tweet, secondo me è molto azzeccato. Questo è quanto. Le necessità erano sostituire Chessy, trovare il 10 e trovare il 9. Queste tre cose le abbiamo sbagliate, purtroppo. L'anno prima, non sostituendoci alla Novlu, abbiamo comunque vinto. È stato promosso Diaz, caratteristiche diverse, però abbiamo comunque vinto. Non sempre, però, non sostituire i giocatori che vanno via, soprattutto se così importanti, in un contesto ti porta a raggiungere i tuoi traguardi. Quindi è una stagione nella quale ci sono stati degli errori e delle sottovalutazioni che devono insegnare per il futuro che se una volta ti è andata bene non ti può andare bene anche la seconda. Quindi mirare bene le priorità. Queste erano le tre priorità. E per la prossima stagione sarà fondamentale andare su delle certezze. Capire bene, identificare, seguire, monitorare. Se ci sono dei dubbi, nel dubbio spostarsi, no? Andare a fare queste cose come un giocatore che è in aria, te la mette all'angolino, segna a destra, segna a destra, non sbaglia mai, no? Un cecchino. E noi dobbiamo essere così sul mercato. Quest'anno a Monte, obiettivamente, la squadra mercato ha sbagliato, pur non avendo a disposizione un budget straordinario. Però, ecco, io cito un caso. In Don Belen, il Napoli è una riserva. Secondo me, nel Milan avrebbe giocato anche di più. Anche senza tantissime risorse. Delle volte, i giocatori in prestito li puoi prendere. Oppure non prendi 35 De Chetelare, prendi un centrocampista, lì davanti fai con un altro. Insomma, con un po' di fantasia. È chiaro che hai sempre un po' le mani legate. Ciò nonostante, non bisogna sottovalutare le priorità. Che sì, oggi manca. Manca. Manca che sì. De Chetelare, no good. Orighi, sapete. Avessimo azzeccato anche due, dico uno, la situazione sarebbe diversa. Due, saremmo, secondo me, messi molto meglio. Molto meglio. Perché poi è chiaro che non si può essere sempre macchina perfetta. Ma queste tre cose, purtroppo, le abbiamo sbagliate e sottovalutate. Tra queste tre, qual è quella più importante? Il fatto che manchi un sistituto di Chessi. Che poi avevamo preso Vranx, però, visto mai. Che poteva essere, secondo me, il sostituto di Chessi anche per la società. Sostituto di Chessi. De Chetelare è sbagliato. Orighi, quindi il vice Giroud. Scrivete qui sotto che cosa abbiamo sbagliato principalmente e quale dovrà essere la priorità per il prossimo anno. Nell'ordine, magari. Leggerò i vostri commenti. Vi ringrazio per la partecipazione. Iscrivetevi qui se siete dei cuori rossoneri. Lasciate un bel like e commentate numerosi con il vostro punto di vista. Personalmente, per la prossima stagione, ritengo che si debba fare tutte queste tre cose. Sostituto di Chessi, numero 9, è un trequartista perché se De Chetelare non svolta non può ripartire pensando, boh, speriamo. Serve tutelarsi, magari con un centrocampista trequartista, come potrebbe essere O'Hara, ad esempio. Ho fatto un esempio. Un abbraccio a tutti. Forza Milano oggi più che mai. Domani ancora di più. E se vi va, seguitemi anche su Instagram, sul mio profilo andranogoniqsvs. Vi metto qui sotto il link. Un abbraccio a tutti.